Il problema fondamentale è l'informazione e la comunicazione degli atti, delle risoluzioni importanti, di problemi importanti di questo territorio che vanno comunicati al cittadino. Inaugurata ieri, 22 aprile, al secondo piano di Palazzo Farnese, sede del comune di Castellammare di Stabia, la sala stampa intitolata alla memoria del giornalista Giancarlo Siani. L'evento è stato particolarmente sostenuto e voluto dalla triade commissariale che dal 28 febbraio del 2022 è intervenuta nella gestione amministrativa della città, subentrando allo scioglimento dell'amministrazione Cimmino e sigla, per così dire, la conclusione del lavoro della Commissione prefettizia alla vigilia della tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno. Approvato infatti il regolamento che ne disciplinerà l'utilizzo, la sala stampa sarà aperta ai giornalisti dell'area vesuviana, quale osservatorio privilegiato per raccontare, con etica e trasparenza, proprio sull'esempio e i moniti di Giancarlo Siani, la vita pubblica delle comunità vesuviano-costiere. L'evento presieduto dal commissario straordinario Mauro Passerotti ha visto l'intervento del presidente dell'ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli e dell'onorevole Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Io immagino che questo sia un seme di legalità che darà i suoi frutti negli anni e gli anni e gli anni a venire. Commosso immaginavo Giancarlo seduto su quelle sedie, seduto lì dentro a fare il suo lavoro e penso che chi giornalista in questi anni, ma negli anni a venire, si sederà su quelle sedie sapendo che il Stato di un'aula interessato a Giancarlo si impegnerà un po' di più a raccontare i fatti alle persone. Qual è la sua personale fotografia della realtà vesuviana, delle zone della fascia vesuviano-costiere? Le zone stupende, non sempre amministrate come dovevano, ma che hanno grandi potenzialità. Al termine della manifestazione un bilancio conclusivo del lavoro svolto sul territorio stabiese ed un messaggio di speranza per la nuova stagione elettorale della città. Dire che di aver trovato una città in disordine è poco, nel senso che è disordine amministrativo, forse anche una mala gestione. In questi due anni si è compiuto quasi un miracolo. In questo momento è in corso il progetto esecutivo, la gara del progetto esecutivo per l'affidamento delle nuove terme, per la ricostruzione delle vecchie terme. Sulle nuove terme c'è stato un accordo importantissimo con la regione, l'acquisizione di 13 milioni di euro per il pagamento dei debiti dei creditori del fallimento del procedimento e la restituzione alla città del parco idoprinico di Villa Ersilia. Vorrei citare anche l'acquisto, il nuovo acquisto, il mantenimento dell'acquisto dell'acqua cedosella che andava all'asta e che l'amministrazione la Commissione straordinaria ha consentito il recupero attraverso l'acquisto di questa fonte che si collega alle attività delle terme. Quindi da una situazione di completo abbandono, direi anche qualcosa di più di abbandono, abbiamo gettato le fondamenta, le basi perché questa città possa riprendere tutte questioni dirette alla valorizzazione, alla ripresa che consegniamo all'amministrazione che sappia mantenerli, tutelarli, svilupparli, valorizzarli perché queste sono le risorse primarie della città di Castellammare.